Buona la prima ragazzi, qui è Giassiz e oggi siamo tornati Ho trovato Ronaldo in a pack Questo è un account secondario Avevo due pacchetti regalo E sono andato ad aprirli al secondo Ronaldo Come potete vedere ho 44 oggetti Non ci gioco mai su questo account Infatti tre partite Ronaldo al secondo pacchetto Ronaldo Ovviamente io nell'altro account Ho spacchettato più di un milione o 1100 oggetti E non ho trovato Ronaldo Qui al secondo pacchetto Ronaldo ovviamente Eccolo qui CR7 ora lo andiamo a provare perché è assurdo CR7 in a pack CR7 in a pack E anche Dempsey Man of the Match Michu Insomma Che culo cazzo Se questo video vi è piaciuto Per quanto breve Lasciate un like Un commento Ditemi voi che cosa avete trovato Qual è il vostro top player Top player No lo scattiamo un cazzo E noi ci vediamo Un prossimo video Bella No lo scattiamo un po' No lo scattiamo un po' Grazie a tutti.